Revocata l'ordinanza di rivieto per l'uso potabile dell'acqua nei quartieri serviti dal serbatoio Mura di Vega a Sciacca. Il provvedimento era stato emesso lo scorso 14 maggio a seguito della comunicazione del gestore del servizio idrico integrato e degli esiti dei campioni di acqua prelevati in entrata al serbatoio che segnalavano la presenza di sostanze inquinanti. L'ordinanza era stata manata a titolo cautelativo a tutela della salute pubblica in attesa delle controanalisi del distretto sanitario di Sciacca dell'ASP, controanalisi che sono state eseguite e che hanno evidenziato valori dei parametri conformi alla legge in entrata e in uscita dal serbatoio Mura di Vega. Da qui l'ordinanza di oggi che consente alle utenze private di poter utilizzare per scopi potabili l'acqua accumulata proveniente dalle condotte, effettuando prima dell'utilizzo un'accurata pulizia e disinfezione delle eventuali vasche di accumulo, con le ordinarie metodiche in uso.